www.boxingshow.tv Sono con nessuno altro che il signor Silvio Branco. Come stai, Silvio? Ok, adesso sta con te. Volevo sapere che cosa di te. Quello di me lo ho detto prima in conferenza stampa. Mi sono preparato molto bene per questo combattimento. Sono venuto qui per vincere. Il Canada è bellissimo. Ha fatto il suo meglio per vincere questo combattimento qui per il frattempo. Ha fatto tutto ciò che ha fatto, è ok per lui. La prima volta in America, in Nord America, non hai combattuto in Italia o in Germania. Come è la prima volta che hai combattuto in Italia? Come non hai combattuto in USA? Pare che non fai niente in America o in Germania. Adesso, con tutto questo tempo che sei firmato, come lo senti? Mi sento bene e spero che la mia opinione, le mie sensazioni, siano positive ora come sul ring il 25. Il ha detto che è bene ora. È quanto tempo che non ha combattuto in America o in Germania. Ma è bene ora. È felice di combattere in USA? Sì, è felice. È felice di combattere. È felice di combattere. Hai mai visto Jean Pascal combattere? Ho già visto Jean Pascal combattere prima. Ho già saputo Jean Pascal combattere prima. Non, mai. Mai. Non. Non. Ho già studiato le combattere prima che si vede? Sì, sì. Ho studiato le combattere? Sì, sì. Ho studiato le combattere? Sì, sì. Ho studiato il l'attacco? di boxe, il stile. Allora, parla con il stile? Ah, sì. Ma in inglese, perché è per gli Stati Uniti. Ok, ok. Lui ha detto che nel suo stile, come l'hai studiato bene, come come boxe? Ha studiato bene il suo stile, veloce, rapido, sì. Has he ever fought someone like Jean Pascal style? He's fast, he can do boxe, he's good. Has he ever fought somebody similar? Yeah. Do I fight a little bit of Guanti? Si, ha fatto sparring, similar to Pascal. Si, ha fatto a lot of Guanti. And is there a specific fighter he's ever fought before? You fought Glenn Cove Johnson back a few years ago. How was that experience? Were you surprised that he beat Roy Jones Jr.? Tanti anni fa tu hai battuto Glenn Cove Johnson come l'hai saputo come persona? Was he surprised that he beat Roy Jones Jr.? Allora, come l'hai visto si Glenn Cove Johnson fight con Roy Jones Jr.? Glenn Cove Johnson ha vinto il match con Roy Jones per cui ha fatto un'ottima prestazione. Si, ha visto si, ha vinto il match con Roy Jones Jr. ha fatto un bel match con Roy Jones Jr. Ok, thank you very much, Silvio. Bonne chance. Thank you. Ok, thank you very much. A very multiple match. I mean, I think it was a pretty much of a pretty much the case. Yeah, thank you very much. What's going on? I think you have a great deal. And it's a great deal. And, of course,